Comandante d'Argenio, oggi ha permesso un importante incontro, il primo della polizia locale per parlare di sicurezza ma anche di omologazione sulle autovelox, non sono nemici ma sono alleati. Sì, certamente, oggi trattiamo un tema abbastanza delicato, specialmente in questo momento in cui abbiamo una Cassazione che poco più di un mese fa ha espresso una sentenza abbastanza dura e rigida nel bloccare gli autovelox non omologati. È bene precisare che in Italia attualmente non c'è nessun autovelox omologato dal Ministero. Oggi qui a Solesino parleremo appunto di questa tematica affrontando con vari esperti questo tema e sollevando una questione che ormai da anni si portava avanti di chi è la competenza ad omologare questi autovelox perché il Ministero dei Trasporti si assume un compito per l'approvazione degli apparecchi e questo è previsto dalla norma. Ma l'omologazione, come ha sancito la Cassazione e centinaia di tribunali italiani, deve essere svolta dal MISE ex Ministero del Sviluppo Economico, oggi Ministero del Made in Italy per cui tratteremo con gli esperti oggi questo tema e mi auguro che tutti gli operatori presenti che sono più di 100, probabilmente da mezza Italia, riescano ad analizzare questa tematica con un'ottica positiva perché verranno create tante domande e le risposte le aspettiamo prevalentemente dal Ministero e da Roma perché noi qui metteremo sul piatto tutto quello che è successo e sicuramente a breve lo stesso governo dovrà intervenire perché anche due giorni fa quando il Ministro Salvini ha emanato un decreto autovelox purtroppo tutti si aspettavamo che ci fosse questa parte sull'omologazione che purtroppo manca per cui è un rinvio che dobbiamo aspettare secondo me dopo le votazioni che verrà sicuramente preso in mano perché attualmente in tutta Italia centinaia e centinaia di ricorsi degli automobilisti vengono accolti in quanto si uniformano i giudici alla Cassazione che ricordiamo è un organo molto importante in Italia anche se non fa legge però ovviamente si adeguano a questo orientamento che sta prendendo sempre più piega e pertanto anche noi come parlo in prima persona come comandante responsabile di servizio con autovelox fissi nel proprio territorio e anche altri comuni dove non hanno questa problematica ma comunque vengono chiesti servizi per controllare la velocità da parte dell'amministrazione comunale per la sicurezza stradale sicuramente devono operare con la massima trasparenza e legalità in un'ottica non di far cassa ma in un'ottica costruttiva e per la tutela della cittadinanza